Salve, è da me Gianfranco Marini e dalla Civetta di Atena. E benvenuti alla seconda lezione sulla logica di Aristotele, in cui ci occuperemo della logica dei termini o concetti. Nella logica dei termini Aristotele prende in esame i termini singoli, considerati autonomamente, indipendentemente dal fatto che io li posso collegare insieme in una proposizione. Sono le unità minime dotate di significato del nostro linguaggio, sono le singole parole. A partire dalle parole e dalla loro combinazione si costruiscono, secondo Aristotele, i discorsi. Che cosa sono? Sono gli aggettivi, i sostantivi, gli avverbi e via dicendo. Esempi, uomo, correre, rosso, adesso parlare e così via. Teniamo presente che, considerati isolatamente, i singoli termini non sono né veri né falsi, mentre Socrate corre, può essere vero o falso, a seconda che Socrate stia o meno correndo. Socrate da solo o correre da solo non sono né veri né falsi, non hanno valori di verità, si dice. In greco non sono apofantici. Bene, la seconda avvertenza è che i termini presi isolatamente esprimono concetti che Aristotele chiama anche categorie. Bene, tratteremo delle categorie più diffusamente nella metafisica. Però diamo una approssimativa definizione di cosa Aristotele intenda per categorie, altrimenti non possiamo andare avanti. Aristotele definisce le categorie come generi sommi del pensiero e dell'essere. Cosa vuol dire? Beh, prima di tutto rileviamo che la definizione ci fa capire che le categorie hanno una duplice valenza. Si riferiscono tanto al pensiero e al linguaggio da una parte, quanto alla realtà, all'essere, dall'altra parte. Ma cosa significa generi sommi? Significa che le categorie sono gli insiemi più grandi, più ampi, che noi possiamo costruire quando vogliamo classificare tutto ciò che possiamo dire di una determinata sostanza. Cominciamo da questa prima approssimativa definizione. Socrate è un nome, ma Socrate ha una duplice valenza. Sul piano linguistico del pensiero è un termine che sta a significare qualche cosa, un nome proprio in questo caso. Sul piano della realtà questo nome corrisponde a un'entità ben precisa, a quello che Aristotele chiama la sostanza prima, in questo caso Socrate, il maestro di Platone. Ebbene, le categorie, dicevamo, sono gli insiemi entro i quali noi possiamo classificare tutto ciò che possiamo dire di una qualsiasi cosa. In questo caso è Socrate, ma potrebbe essere una qualsiasi altra cosa esistente. Ebbene, le categorie sono questi insiemi. Che cosa possiamo dire di Socrate? Tutto quello che possiamo dire di Socrate lo ordiniamo sotto queste etichette, dentro questi insiemi, che sono i più generali di tutti. Per esempio, possiamo dire Socrate è basso. In questo caso, cosa stiamo dicendo? Stiamo dicendo che il soggetto della nostra proposizione, Socrate è basso, ecco, al soggetto della nostra proposizione, è riferita la qualità, il predicato di essere basso. Sul piano del pensiero e del linguaggio, quindi abbiamo un predicato riferito a un soggetto, che rientra nella categoria della quantità. Ma nella categoria della quantità rientra anche la proprietà di essere basso, cioè al concetto di basso, alla qualità di basso, corrisponde sul piano della realtà una certa proprietà di essere bassi che è propria di una certa sostanza, Socrate. Quindi come si vede nella categoria della quantità, basso è insieme sia predicato che proprietà. Predicato, se consideriamo l'aspetto linguistico logico del pensiero, proprietà esistente, riferita a qualcosa di realmente esistente, quindi ci muoviamo sul piano dell'essere, quando la consideriamo appunto sul piano della realtà fisica. Bene, le proprietà Aristotele ne elenca diverse, queste proprietà sono i tag più generali che possano mai esistere. Il sogno di Aristotele è quello di classificare tutto ciò che si può dire di qualcosa e tutte le proprietà realmente esistenti nell'essere. Classificarle in modo ordinato, univoco, in modo da ottenere un sistema classificatorio dello scibile, totale, onnicomprensivo, universale. Vedremo meglio poi, trattando della metafisica, altri aspetti delle categorie. Torniamo adesso alla nostra logica dei termini. Prima di tutto, in quanto esprimono concetti, i singoli termini stanno tra loro in rapporto di genere e specie. Cosa si intende per genere e specie? Ebbene, i concetti variano a seconda del loro grado di generalità, di universalità. Facciamo subito un esempio. Mortale è certamente più generale di uomo. Uomo è certamente più limitato di mortali, anzi è compreso immortale. Chiarito questo, chiarito che in logica si parla di estensione, che ogni concetto è un'estensione, per esempio l'estensione del concetto di uomo da che cosa è data? Da tutti quegli individui o elementi che rientrano nell'insieme di uomo, cioè che godono della proprietà di essere, per i greci e per Aristotele, animali razionali. Ebbene, chiarito questo, dicevo, a seconda dell'ampiezza dell'estensione di un concetto classificheremo i concetti come specie e come genere. Definiamo specie un concetto quando è contenuto in un concetto più ampio. E quindi in quanto contenuto in un concetto più ampio, un certo concetto è specie. In quanto contiene, chiedo scusa, un concetto meno ampio, un certo concetto è genere. Facciamo subito degli esempi, mortale, animale e uomo. Vediamo qui un rapporto di estensione crescente, decrescente, mortale più universale di animale, animale più universale di uomo. Quindi, in base alla definizione data, mortale in quanto comprende animale, poiché mortale è più esteso, è genere di animale. Animale in quanto contiene uomo ed è più esteso di uomo è genere di uomo. Il rapporto inverso è quello della specie. Uomo in quanto è contenuto in animale è specie di animale. Animale in quanto è contenuto in mortale è specie di mortale, come riassunto qui. Stessa cosa per poligono, quadrilatero e quadrato. Tutti i quadrati, infatti, sono quadrilateri e tutti i quadrilateri sono poligoni. Cosa vuol dire? Vuol dire che quadrato è specie di quadrilatero, che è specie di poligono. Poligono è genere che contiene tutti i quadrilateri, ma contiene anche altre figure, così come quadrilatero è genere di quadrato, ma quadrilatero contiene anche altre figure, che sono trapezzi, rombi e così via. Bene, è chiarito cosa sia il genere, cosa sia la specie, dal punto di vista della quantità, cioè dell'estensione di questi concetti, che qui è raffigurata attraverso dei cerchi, uomo è compreso in animale, e quindi uomo sarà specie di animale, animale è compreso in mortale, e quindi sarà specie di mortale, e viceversa mortale è genere di animale, che è genere di uomo. Quindi ci siamo basati solo sulla grandezza e sulla inclusione. Continuiamo a trattare questo argomento passando a chiarire che il rapporto esista tra l'estensione di un concetto, la sua grandezza e la comprensione di un concetto. Si tratta di termini tratti dalla logica più moderna, che Aristotele non usa, ma Aristotele comunque tratta di questi aspetti dei termini o concetti. Bene, per estensione intendiamo l'insieme di elementi che sono compresi in un concetto. Usiamo il linguaggio dell'insiemistica, l'estensione di un insieme, in questo caso l'insieme è il concetto, quindi l'estensione di un concetto è data dai membri dell'insieme, cioè è data dall'insieme degli elementi a cui si applica correttamente quel concetto. Come abbiamo detto prima, l'estensione di uomo è data da tutti e solo quegli elementi che godono della proprietà di essere uomini, cioè di essere animali e razionali. Ma che cos'è la comprensione? La comprensione invece è l'insieme delle caratteristiche che io devo attribuire a un concetto per definirlo in modo univoco. Cosa vuol dire univoco? Se io definisco uomo come animale, non ho definito uomo in modo univoco, perché anche il cammello è un animale. Quindi devo aggiungere altre caratteristiche, mortale, razionale, eccetera. Quindi la comprensione e l'insieme delle caratteristiche, delle qualità, delle proprietà che sommate le une alle altre mi danno esattamente la definizione del concetto. Perché Aristoteles sofferma su questo aspetto? Perché genere e specie sono caratterizzati da una situazione esattamente inversa riguardo alla comprensione e all'estensione. Chiariamo meglio, una specie è definita, per definire una specie devo utilizzare un numero di caratteristiche maggiore che non per definire un genere, in quanto è vero che la specie contiene un numero minore di elementi, ma proprio per questo, per definirla, devo utilizzare un numero maggiore di caratteristiche. Per il genere vale la stessa cosa, ma inversa. Un genere, per definirlo, devo usare un numero di caratteristiche minore, ma contiene un numero maggiore di elementi. Facciamo un esempio. Certamente i due concetti uomo-animale sono chiari a tutti. E certamente uomo è un concetto che ha un'estensione più piccola di animale, perché se tutti gli uomini sono animali, non tutti gli animali sono uomini, i cammelli, i cani, i gatti, eccetera. Quindi, uomo ha un'estensione minore, animale maggiore. Per definire uomo, tuttavia, io devo utilizzare più caratteristiche, più proprietà, animale, più mortale, più razionale. Mentre per definire vivente mi bastano solo queste due, proprio perché essendo più generale, comprendendo più specie, è più generico animale di uomo, uomo è più specifico. Ma possiamo vedere anche quest'altro schema, quest'altra tabella. Qui abbiamo in ordine di estensione decrescente cinque concetti, che sono vivente, che comprende mortale, che comprende in sé animale, eccetera, eccetera. Quindi vivente è genere di mortale, che è genere di animale, mentre razionale sarà specie di animale, e così via. Possiamo osservare che abbiamo un rapporto inversamente proporzionale tra comprensione ed estensione. Cioè, tanto più esteso sarà un termine, tanto minori saranno le caratteristiche che io dovrò usare per definirlo. Per esempio, per definire animale, devo dire che animale è tutto ciò che è vivente e che è mortale. Mentre invece, per definire uomo, devo aggiungere due caratteristiche. Non solo uomo è mortale e vivente, ma si muove ed è dotato di ragione. Quindi, tanto più il mio discorso si riferisce a un genere specifico, a un genere con un'estensione minore, tanto maggiori sono le caratteristiche che io devo aggiungere per definire quel termine. Detto in altro modo, abbiamo la minima comprensione e la massima estensione per i generi più ampi, mentre abbiamo una massima comprensione, cioè una minima estensione, per i generi più piccoli. Fino ad arrivare a Socrate, cioè al singolo individuo. Aristotele dice che questa è la sostanza prima. Cosa vuol dire? Vuol dire che ciò che propriamente esiste sono solo le sostanze prime, cioè solo i singoli individui concreti. Non ci si faccia confondere dalla parola individuo. Non si intende persone, anche un oggetto, una penna e un individuo, a questo punto di vista. Un individuo, una penna e un individuo, che è una sostanza prima. Ciò che realmente esiste è la penna, ciò che realmente esiste è Socrate. Non esiste la razionalità, l'animalità, la mortalità. Queste sono semplicemente proprietà di qualche cosa che esiste, cioè di una sostanza. L'essere basso, l'essere mortale, l'essere razionale non sono entità che hanno un'esistenza propria, come per Platone. Secondo Aristotele sono invece proprietà di una certa sostanza. Per questo lui definisce i singoli e concreti individui che hanno un'esistenza autonoma, come Socrate, la penna, eccetera, sostanze prime o in senso proprio. Mentre definisce sostanze seconde i concetti più generali, che non hanno un'esistenza propria, ma sono solo proprietà che sono riferite o che esistono dentro, per usare questa espressione, che sono immanenti a una sostanza. Uomo, razionale, animale, mortale, sono quindi categorie o concetti molto generali. Razionale, essendo genere di uomo, è un concetto più generale di uomo. Se torniamo alle categorie, adesso capiamo cosa intendeva Aristotele quando parlava di generi suomi. Sono i generi oltre i quali non si può andare, sono i più vasti di tutti. che sono nella categoria o genere della quantità, sono comprese tutte quelle caratteristiche quantitative, tutte quelle proprietà quantitative che noi possiamo predicare di una certa sostanza. E così via per la relazione, per il luogo, per il tempo, eccetera. Bene, spero di essere stato chiaro. Ho finito, prossimamente passeremo alla logica delle proposizioni. Per il momento è tutto, saluti da me, Gianfranco Marini, e dalla Civetta di Atena.